è un buon punto di partenza swing a vuoto primo strike out della partita o arriva la conferma saluti da valencia torno a bere da parte di andrea le rose mentre corridore invece no è un lancio leggermente alto ma girato da albi ks giugna vuoto k numero 3 non vuole essere da meno diego strike out batte su bio bio raccoglie assist in prima auto numero 2 la via è quella 53 quindi su alberto barchetta che batte una valida a sinistra il boss finale batte la prima valida la partita su galattano parte barchetta salvo salvo colpisce una palla al volo che tommy no chiama rip la chiama rip no la palla cade lancio alto gol numero 4 lancio esterno base gol caldo zappia prima base colpisce una palla valida entrano due punti per il porcia più dei gradi ed è difficile oggi ruba la seconda le operazioni di riscaldamento e c'è una valida a destra valida a destra di michael macoratti e due punti che arrivano a casa vediamo se quindi il nostro bo ora andrà verso casa base va lancio e nella zona raccoglie fabio miceo che assiste in prima l'auto numero 3 quindi su hank arriva lancio di alberto barchetta il volo numero 4 enrico varin raggiunge salvo e sacchetto prima base attenzione grande grande battuta valida di bio enrico varin il fulmine la saetta il furetto raggiunge salvo sacchetto di terza giunga vuoto strike out parte bio gira vuoto giulai quindi eliminato al piatto perché se era bloom era biavo colpisce rip una palla insidiosa 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 salvo salvo tutti salvi parte rubata rip strike a casa è eliminato eliminato sono della varina alle tonzar che discutono attenzione strike out gira vuoto alessio restuccia arriva non solo bo lancio effetto batte una rimbalzante difficile verso tommy che prende assiste o time assistenza 63 su alberto barchetta colpisce barchetta su flow flow raccoglie e arriva a toccare il sacco prima del boss finale colpisce una palla insidiosa che questa su davide zappia che però assiste in tempo out numero uno swing a voto è eliminato il piatto con la calma albi vediamo questo lancio colpisce raccoglie alberto barchetta assiste in prima out numero 3 la via è molto pieno colpisce una palla lunga verso rip raccolta ff7 sapeva tutti tutti sapeva ks raccolta il turno precedente questa volta batte però una valida valida destra giulia ha provato a raccogliere per assiste in prima batte di nuovo verso la parte adesso il campo zappia raccoglie al volo giano santino termina l'attacco oggi si è perfetta flow 02 colpisce una bella palla pecca pecca perché stavo caricando stavo caricando la poca voce rimasta colpisce una palla al volo raccolta dal ricevitore giro vuoto strike out ks uguale 999 per non sbagliare colpisce una palla all'esterno destro giulai giulai e sotto raccoglie punto pieno sul numero 9 del line up colpisce una palla al volo la chiama giano la raccoglie giano out numero 2 roger zozanon colpisce verso sinistra rip in controllo anni fani fanos o fani fante swing e miss come ieri sera però giulai colpisce una palla verso l'inter base e assiste gran out gran out questo della tredicesima tanto gira vuoto ks numero 9 e poi l'idea come te voli giampi però la seconda fetta e siamo sempre a f perché cos'è alberto pop e pop eis o quel che sei alberto barchetta vedremo se sarà un'altra f eccola qua eccola qua attenzione attenzione tommi impossibile che fa questo out mamma mia golf valida in 6 va gira vuoto però terzo eliminato termina l'attacco lancio esterno vol numero 4 mandar tommi non sei escluso attenzione boll numero due e sei andato mi vai in base giano ma in base giano bibi che per ora due ball un strike palla per terra bank perfetto la parada 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 wow tre ball uno strike flo colpisce una palla alta alta al esterno centro la palla cade la palla cade batte enrico varin verso la zona destra del campo questa palla cade 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 arriva a casa tommi arriva a casa flo e' un po' doppio 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 dira subito la prima palla bio e una palla alta ciotta ciotta grande presa della terza base qualche lungo nel dagao del regista di sessi le regole fanni te che ce l'ho dito meno male che almeno te fa lavorare jumpy che si diverti stava spostare il gazebo cosa bisogna fare eh non lo abbiamo fatto attenzione batte su bobo raccoglie fa veloce out in prima faremmo una difesa veloce qua colpisce verso giano santino giano santino prende raccoglie out numero due streak numero uno e questo e' una battuta che è fanni raccoglie agevolmente easy easy fly quella di fanni questo era f8 giuli batte una palla che può essere insidiosa ma viene raccolta f4 sicuro è f9 questi punti si guadagnati su barchetta prima bel bant bel bant non sarà facile per barchetta effettuare l'eliminazione ma wow condotto salvo salvo rips foul tip strike out e' mi ha tobiato tommy entriamo nelle fasi importanti vada che fa no strike out ks per ora più famoso del mio attenzione palla su tommy easy easy catch se cascava penso che ti ciappavi un po' di parole se sei un problema adesso batuda su tommy tommy raccoglie spara in prima e' so e' out put perchè l'ho sotto al volo batte vale dal centro no oltre no oltre bravo conservativo vale dal centro ed è un videogioco non si può il far casino mi ha salto i centrali però ci deve essere la sunboard batte infatti una palla a sinistra rip la guarda la raccoglie e anche questa volta il boss finale non è stato sconfitto del tutto ma un altro livello in difficoltà sotto nel punteggio più che in difficoltà ahhh ahhh cazzo dai che meglio dai la corda tre ball un strike e questo e' il ball numero quattro ma Enrico Varin addiole batte la valida 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 a sinistra valida a sinistra Flo corre solo valida Flo corre e' un doppio secondo doppio della giornata di Enrico Varin quattro ball quattro ball intenzionale a bion d attenzione Fanny fly ball to the left field Flo prende e raggiunge salvo salvo Fanny SF sette colpisce giuli esso e' un tremendo battasso tremendo battasso di giuli tremendo battasso di giuli riporrerà il field attenzione bant rip valida di rip valida di rip e' una valida di rip questa incredibile 47 rubata di rip salvo in seconda colpisce colpisce Tommy verso la terza base attenzione errore no salvo out 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 Tommy corre più forte abbiamo mamma mia bo galatano viene colpito h bigon ball va rubata un bel lancio non questo per niente questo terribile terribile questo lancio battere vincere anche lui perciò sempre conto pieno strike out eso e' mi comunque giro peggio lini miss strike out ks numero 2 k numero 2 duro o no? forse non ha previsto questo eh lavoro pleca siligatori qua a casa 45 assist almeno 130 almeno almeno BANTE a sorpresa segna valida valida eccoci qua valida wow attenzione pick off pick off errore pick off palada praticamente e' questa eccola niente da fare errore errore difensivo troppo si ma errore del 9 non sei valida meno mai che non va a battere Barchetta all'ultimo inning batte Flore valida e RBI arriva Trombetta anche errore errore dietro avanzamento di Albi forse c'è anche su e' il kid Flore in seconda pensione Enrico Varin Enrico Varin Enrico Varin eso e' un tremendo batasso Enrico Varin tremendo batasso eso e' uuuu battico ah si si buona buona bellissimo una grande giocata di costetto e' barbi bella neanche da niente da fare niente da fare Fanny batte un F.O. uuuu e' F.O. e' F.O. e' F.O. su Julai batte una rimbalzante su terza base che raccoglie con molta calma con molta calma assiste in prima e' out allora rip strike out siamo giunti alla parte bassa del settimo inning il nono inning batte intanto un lancio di Ale Tonzar Zappia Riccardo e' l'out numero 25 batte Macoratti giu Flo raccoglie tocca il sacchetto eliminazione numero 26 prego Ale Tonzar conto pieno lancio boll base per Singh Surkara Miot Ale per cortesia viena vuoto out numero 27 termina la partita i rangers si impongono sul campo di San Giorgio non di Porcia però contro il Porcia per 11 a 5 ne si ne si se se si 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 Grazie.